Scusi buon uomo, mi sa dire l'ora per favore? E 5 e 35 Fai sicuro? E 36 Grazie Prego Ha mangiato il ciuchino eh? No Senta, mi sa dire che ora sono adesso? Andorca Le 7 e un quarto E' un quarto Ma sono le 7 e un quarto spaccare In credito Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino scusi? No io le arzo Sopra c'è il campanile vedi E' un quarto E' un quarto